benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi comincia ufficialmente il nostro viaggio all'interno del nuovo ramo battlecruiser francese ramo diciamo tra virgolette perché in realtà è diciamo che sono poche navi sono solo tre cherbourg brest e marsiglia che vedrete poi nei prossimi giorni oggi cominciamo con il tier 8 ovvero lo cherbourg progetto super danker che una sorta di diciamo qualche disegno schizzo della marina francese che voleva realizzare questa variante alla classe danker che poi comunque non è mai stata veramente costruita e realizzata si tratta di un battlecruiser estremamente agile con delle capacità di tomoneria piuttosto importanti e tutti i canoni disposti nella zona di prua come poi avete visto sul tolone e vedrete in proseguimento su tutte le altre battlecruiser di questa linea transalpina siamo qui su epicentro laxington contro implacabile due sommergibili per lato tutti tedeschi lightning ognevoi per quanto riguarda il compartimento destroyer contro kagiro e orkan per il nemico se guardate tutte e dico tutte navi tier 8 quindi possiamo dire che è la partita perfetta per far per far capire alla gente come realmente si comporta questa nave quando incontra navi dello stesso tier è diciamo il modo migliore per bilanciare una nave anche se dobbiamo essere onesti un matchmaking del genere capita veramente molto raramente il fatto di avere tutte navi dello stesso tier nella medesima partita epicentro è una modalità piuttosto fastidiosa però bisogna fare buon viso cattivo gioco e alla fine questo è ci capita questo dobbiamo portare il sherburgo devo dire che onestamente mi piace comandanti a me è piaciuto molto è comunque una nave che tutto sommato quando gioca appunto da top tier riesce a essere piuttosto performante non soffre assolutamente il combattimento contro altre corazzate anzi sfrutta tantissimo a volte anche le incapacità dei giocatori medi di batteship che non sono tutti dei cecchini come magari quelli super unicum che incontrate sempre più raramente perché la gente di questo livello sembra ormai diciamo lasciar perdere le random il più delle volte ha un compartimento hp di circa 49.500 con un interessante fasciame laterale di armatura che arriva fino a 170 mm guardate il corpo come è incredibilmente preciso anche a distanze ampie abbiamo trovato il destroyer senza particolari problemi con due pen in h.i. e i suoi danni sul per quanto riguarda la riduzione dei danno torpedo è del 25 per cento quindi tutto sommato è superiore rispetto a quello dei classici canonici diciamo 5 10 per cento che è già spesso sui incrociatori pesanti tutti gli effetti appunto un incrociatore da battaglia con capacità difensive superiori alla media ha poi una velocità massima di 32 nodi ma che è ampiamente migliorabile grazie al suo straordinario boost che vedete adesso in azione il terzo ultimo consumabile in basso partendo da destra aumenta a questo del 20 per cento la velocità e per circa 234 secondi dura veramente tantissimo ovviamente con il modulo a carbone che ne migliora le prestazioni altrimenti diciamo che la durabilità del bonus è più limitata se guardate il nemico sta prendendo chiaramente il centro con il classico submergibile che va a piazzarsi in quella zona i nostri invece sembrano essere un po più diciamo meno svelti e vanno tutti entrambi sul lato destro devo dire che questa partita preparatevi perché sarà particolarmente dura ma fermo veramente veramente un partitone siamo partiti con i proiettili incendiari questo per cercare costantemente l'incendio sulle sovrastrutture nemiche ma a questa distanza vi posso assicurare che anche passando a p con i 305 mm dello sherbur troverete veramente i facili danni anche sulle corazzate nemiche e soprattutto quelle non particolarmente correttate nella zona superiore come la bismarck tedesca per quanto riguarda le sue abilità diciamo di timoneria sono 670 metri di raggio virata con un timone che risponde in 12 secondi e il raggio virata è veramente notevole e considerando che parliamo di un battlecruiser questa capacità di manovra lo rende super super agile nonostante la stazza e l'incredibile calibro dei suoi cannoni qui passiamo ai proiettili ap vedete un po come anche quando la nave cerca di angolarsi il parlo della bismarck comunque riusciamo bene o male a colpirla ovviamente passare comunque ai proiettili incendiari quando la nave si mette in questa posizione è sempre la cosa migliore noi qua siamo comunque con una nave che stiamo testando e quindi ci piace un po sperimentare come si comportano i proiettili contro i target nemici se guardate la bismarck sta facendo una manovra assolutamente suicida perché va contro la zitain che ha un posizionamento migliore e addosso anche i cannoni dell'ogne voice sul lato sinistro oltre al fatto che ci siamo noi e la lexington che non può fare altro che attaccarla perché è la nave che effettivamente la stava spottando a questo punto bismarck affondata barattiamo un destroyer già perso dopo neanche sei minuti e con una corazzata e attacchiamo e mandiamo praticamente in kiting l'incrociatore leggero Cleveland che sarà particolarmente ostico perché poi diciamo che non deciderà di ingaggiarci direttamente questo e renderà la nostra 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 vita sul fianco un po più pesante da sopportare di alle sue spalle la sherman sta salendo come anche la roma che però non ha preso letteralmente ancora posizione è sempre meglio evitare di attaccare la zona centrale inizio di epicentro perché comunque si va poi a intasare bisogna cercare prima di capire dove sono effettivamente i destroyer e i sommergibili nemici e poi effettivamente decidere di attaccare una zona che può essere particolarmente trafficata per quanto riguarda le capacità stealth dello sherbur abbiamo un mimetismo che raggiunge 12 chilometri 300 metri massimi di spottabilità via acqua e i 6 chilometri 800 metri via aria e via sommersa e vediamo che il mimetismo è piuttosto scarso da tutti gli effetti uno dei peggiori incrociatori tier 8 da questo punto di vista però parliamo pur sempre di un battlecruiser e dobbiamo fare diciamo abitudine a questo essendo una nave comunque è portata per appunto lo scontro la battaglia pesante e non sia mai un mimetismo è veramente eccellente anche perché lui gioca comunque a medie distanze non è portato per camperare alla lunga quindi diciamo che questo scarso mimetismo può diventare effettivamente un problema in alcune partite per quanto riguarda invece la sua diciamo principale batteria di offensiva comprende due torri quadriate da 305 millimetri capaci di sparare ogni 28 secondi mantengono l'identico calibro e l'identico tipologia di cannone del tolone che avete visto sabato cioè quel battlecruiser premium anche se in questo caso si sale al tier 8 e hanno un braddeggio a 180 gradi in 26 secondi con la skill del comandante ovviamente montata sopra la dispersione è di circa 183 metri fino a 17 chilometri e 700 con una fire chance del 17 per cento per quanto riguarda la balistica sale a 870 metri identica sia con i proiettili incendiari sia con i proiettili ap quindi balistica identica e i danni vanno 4050 con i proiettili hi e 8610 migliorati con la skill del comandante che poi vi farò vedere nel setup e per quanto riguarda i proiettili armor penetration più avevamo i proiettili incendiari dentro ma oggettivamente era meglio spalare coi proiettili api sullo chermattel che è particolarmente tenero sulla fiancata ma oramai eravamo lì lo chermattel avrebbe superato l'isola e quindi abbiamo preferito sparare subito rallentiamo qua per evitare i scontatissimi siluri del sombregibile nemico che probabilmente ha conquistato proprio lui stesso la mappa è la mappa centrale inizio partita e poi cerchiamo di spostarci anche perché come potete vedere c'è chiaramente un attacco da parte della porteria che decide di prenderci di mira e lo farà tra l'altro diverse volte nell'arco di tutta la partita a roma dopo aver deciso di attaccare prima il penultimo anello centrale si è poi spostata a sinistra e sta ora ingaggiando la nostra tirpiz il mainz e soprattutto l'ogne voi che sarà un prezioso alleato nel corso della partita uno dei pochi di questa partita guardate un po il smettel esce dall'isolotto mantiene quella strana posizione questa volta col poppy non può che trovare la cittadella e anche l'incapacità della sua della sua potenza motore per quanto riguarda le secondarie dello cherbourg abbiamo sette torri binate da 130 mm capaci di sparare ogni 4 secondi e mezzo fino a circa 8 chilometri con una farshan del 9 per cento devo dire che queste secondarie comandanti non sono affatto male il danno massimo di 1900 il problema è sempre quello se guardate la disposizione alcune sono nella zona di poppa alcune però sono anche nella zona della terra diciamo che si potete ingaggiare con le secondarie anche navi che sono disposte davanti a voi però c'è sempre quella indica con i francesi che montano queste maledette batterie poi poi diciamo che il più delle volte quasi 30 se non il 40 per cento delle vostre argoni di timone di argoni di batteria secondaria non potranno poi sparare sulle sui bersagli che avrete di fronte a voi quindi sono veramente piuttosto situazionali queste queste secondarie non bisogna assolutamente fare affidamento su di loro a meno che magari non ci sia qualche destroyer che vi ingaggia alle spalle improvvisamente allora in quel caso apriranno effettivamente il fuoco la roma ora è in grossi guai perché è stata attaccata a tutta la nostro gruppo qua a destra se guardate il fianco destro è completamente dominato dalla squadra amica e in particolar modo dall'edinburg inglese barra scozzese che attaccherà veramente in maniera assurda e tra l'altro sarà anche il miglior giocatore della squadra avversaria ci diamo ora di spostarci a destra perché non vogliamo finire nuovamente nelle grinfie dell'u 190 tedesco e citiamo poi di cercare un affondamento sulla roma che è lì poco più avanti decidiamo ora di aspettare a sparare perché effettivamente non volevamo essere avvistati e essere colpiti e diciamo quindi di manovrare prima e poi aprire il fuoco se guardate il timone stringe talmente tanto che la roma non riesce a trovarci ora a parte che la roma non ha un tiro particolarmente preciso erano comunque solo 13 chilometri visto come la nave veramente vira in un attimo il timone dello cherbourg è veramente straordinario per quanto riguarda il suo attacco a airstrike antisommergibile è composto una doppia batteria è da attacco singolo fino a 7 chilometri 1600 a bomba per tre bombe ad aereo con una ricarica di 90 secondi attenzione a quando lo usate appunto perché si è doppio si le bombe fanno male ma comunque comandanti 90 secondi di ricarica sono veramente tanti per un attacco antisommergibile quindi usatelo sempre con grande saggezza guardate un po siamo già arrivati a ridosso quasi del milione di danno potenziale tankato e il nemico ha un vantaggio impressionante di tre navi e soprattutto ha affondato metà della nostra flotta destroyer e l'intera flotta sommergibili sembra chiaramente una partita molto molto difficile da recuperare ma attenzione perché il bello arriverà dopo per quanto riguarda la parchiatura antiaerea è piuttosto mediocre è un'antierea diciamo veramente modesta anche se giocando con diciamo contro i tirotto è ancora gestibile ecco posta da batterie da 25 a 37 130 millimetri fino a 6 chilometri con un danno continuativo di 215 è un danno radiante di circa 1400 diciamo che il danno radiante è discreto e danno continuativo è diciamo appena sufficiente io non lo considero effettivamente un punto di forza esistono esistono veramente tantissimi incrociatori tirotto decisamente superiori a livello antiero rispetto allo cherbourg diciamo che questo è effettivamente uno dei suoi problemi l'armatura proi ha un problema che poi vedrete nel dettaglio nel post partita quando vi farò vedere la scheda perché effettivamente ha un'armatura laterale robusta ma la prua e la poppa e poi tutto il rivestimento centrale è composto da un fasciama da 25 millimetri come sapete il 25 millimetri non assicura la protezione dal colpo in overmatch sulla prua sotto i calibri da 400 quindi effettivamente anche navi di battaglia che trovate tranquillamente questo tir potranno cittadellarvi a prua magari all'inizio riuscirete ancora a vivacchiare quando la gente non capirà qual è effettivamente il punto debole dello cherbourg ovvero la zona di prua ma poi lo diventerà quando appunto la gente inizierà a giocarli molto di più e conoscerà le caratteristiche principali di queste navi che tutto sommato sono discrete anche se lo cherbourg secondo me è forse tier per tier una delle migliori della nuova linea francese dal mio punto di vista per quanto riguarda i consumabili a parte il defense fire che avete visto prima c'è questo sonar che è potenziato rispetto a quello del tolone tre chilometri e mezzo di spotting sui torpedo e cinque chilometri sulle navi avete poi il boost che in realtà si può barattare col fighter ma ovviamente il boost speed è consigliato il repair party classico che vi permette di rigenerare punti vita e poi avete a disposizione il main boost reload battery che è il consumabile più importante l'ultimo in basso a destra che permette un miglioramento della ricarica dei cannoni del 50 per cento per 15 secondi con una ricarica di 80 secondi l'ultima cosa si potrebbe anche barattare il sonar con il defense fire ma io come sempre vi ricordo che preferisco di gran lunga giocare con il sonar piuttosto che mettere il miglioramento del fuoco di sbarramento antiereo guarda adesso perché la partita vera inizia solamente adesso siamo 5 contro 8 ripeto 5 contro 8 occhio guardate le salve che possono entrare sulla fiancata della della maghi nemica la maghi è particolarmente tenera sulla fiancata i 305 entrano che a piacere tirate pure su linea di galleggiamento troverete comunque tanti bei danni a questa distanza anche perché sono solo 11 chilometri e mezzo non è poi è difficile da colpire il target l'anore carolina sta ora stringendo verso il centro e questa è una mossa secondo me che loro stanno completamente sbagliando perché vedete e loro non serve in questo modo il centro hanno già sette navi contro 5 dovrebbero cercare di focussare e una nave alla volta invece attacco in maniera completamente scordinata senza essere particolarmente incisivi e questa cosa la pagheranno a caro prezzo noi utilizziamo l'isolotto a destra per avere un punto di riferimento un punto di fuga se dovessimo essere veramente alle strette e cerchiamo di utilizzare anche un po lo spotting della nevoica nella zona centrale questo è nato praticamente nella cortina fumaggina quindi tutti gli effetti siamo noi che spottiamo per noi stessi e quindi logicamente diventiamo anche il target principale delle due navi da battaglia nemiche guarda i danni che entrano sulla north carolina anche a 14 15 km mezza angolata anche lei come sapete la north carolina è particolarmente tenera sulla fiancata mai dare il fianco con la north carolina una delle più leggere in assoluto insieme proprio anche alla maghi ora questi accorciano ancora e vengono completamente bersagliati da noi dall'ognevoi e anche da qualche tiro del mainz che sta impegnando la zona centrale cercando in qualche modo di incendiare le navi nemiche il nostro problema è la maledettissima porta aerei con la quale poi faremo anche i conti faccia a faccia che continua a romperci le scatole perché effettivamente ha capito che siamo forse lo scoglio principale alla conquista della partita questo maledetto ci attaccherà continuamente fino alla fine del match continuiamo con i proiettili api che comunque abbiamo visto essere particolarmente efficaci contro le corazzate ma a questo punto cambiamo target passiamo sulla north carolina perché lei a differenza della maghi che sta virando è in questo momento il target con meno punti vita e soprattutto è anche il target più facile da colpire per noi come potevamo anche probabilmente passare i proiettili incendiari ma volevamo cercare veramente di non perdere tempo e annientare il prima possibile un target nemico alla fine anche il mainz cambia target comincia a colpire effettivamente la la nave da battaglia americana e alla fine arriva una bomba dalla lexington a sistemare il tutto la yamagi capisce che la situazione è piuttosto precaria e cerca di scappare l'isolotto che abbiamo sulla nostra destra che vedete in f3 non è solo utile per cercare di contestare il cap restando con una via di fuga ma anche soprattutto utile per avere un punto di riferimento difensivo contro il sommergibile perché se non ci fosse questo isolotto il sommergibile sicuramente ci avrebbe già attaccato in realtà è probabilmente lì in basso a destra e non può trovarci proprio grazie all'isola che ci mette in riparo tra me e lui effettivamente questa è un'ottima posizione difensiva per il cap che dovreste adottare anche voi se giocaste in situazioni simili su mappa di epicentro anzi su modalità epicentro l'ennesimo attacco aero ormai credo siano almeno tre minuti che la portare ci sta addosso la magia ormai ridotta in fin di vita è perma spottata dal nostro dalla nostra lexington e a questo punto decidiamo di attaccare la zona centrale passiamo ai proietti lincegnari e andiamo a caccia della portaerei e soprattutto dei sommergibili nemici qui dovremo fare una giocata comandanti che non è solito fare ma bisogna ogni tanto anche fidarsi degli alleati andiamo una tirpizza noda andiamo il mines comunque che ha dimostrato di saper sparare andiamo lognaval che comunque ha fatto un ottimo lavoro di spotting e di contest nella zona centrale cercando in qualche modo di contestare la base dobbiamo fidarci di loro e attaccare la zona della linea g dove potremo trovare magari l'incrociatore o la portaerei questo per cercare una nuova linea di tiro nei confronti del nemico e ogni tanto cercare una nuova linea di tiro è la cosa migliore per mettere veramente in difficoltà agli avversari inseguire i vostri alleati e sparare su quello che sparano loro continuamente a volte non è sempre la scelta giusta sfruttiamo poi il nostro boost che però ormai è arrivato veramente ai limiti dei limiti e non possiamo fare altro che rallentare decisamente rispetto a quelle che sono la velocità che può raggiungere la nave quando ha il fantastico lo sommabile a disposizione abbiamo ancora un main battery a disposizione diamo ancora a disposizione ovviamente un sonar che attiva ancora per qualche secondo l'Orkan comunque non può impensurirci a quella distanza lo colpiamo ancora nuovamente non riusciamo a affendarlo ma comunque ci penseranno i siluori dell'Ognevoi veramente più uno meritato sul piccolo destroyer sovietico che però tra poco se non sbaglio verrà fondato poco più avanti a questo punto guardate un po' l'ultima posizione vista dell'Edinbrag è chiaramente navigazione sulla colonna più estè sulla colonna che comprende l'ultimo cerchio passiamo ai proiettili p perché ci aspettiamo prima o poi di ingaggiarlo sulla nostra sinistra ed è quello che a cui speriamo noi noi speriamo veramente di ingaggiare lui e la porta aerei il nostro obiettivo è quello di finire tra noi e la porta aerei in questo modo avremo due bersagli da colpire diamo per scontato il fatto che l'Edinbrag non potrà essere full hp perché comunque ha picchiato tantissimo ha fatto diverse diverse cose buone nel corso del match ha giocato tutta la partita sul lato destro quindi qualche hp dovrà averlo perso per forza guardate un po' la direzione del bombardiere ora conosciamo esattamente la posizione e la direzione della porta aerei inglese quindi decidiamo anche di metterci in quella direzione perché sappiamo che da lì arriverà prima o poi la porta aerei Alex non ci segue poco più distante vediamo l'Edinbrag grazie allo spotting buona cosa dell'ogne voi spotting che sarà assolutamente cruciale per far collimare i canoni velocemente verso il crociatore leggero inglese utilizziamo ancora un po' l'antiare avete visto come comunque si gli eri vanno giù ma ci vuole una fatica assurda questo credo sia qualcosa come il sesto o il settimo raid nemico che la porta aerei ci riserva nell'arco del match questa volta non trova l'incendio l'Edinbrag ci vede solo adesso parte la salva cerca di rallentare e virare all'ultimo ma i nostri canoni non gli lasciano speranze cittadella è affondato col suo fondamento recuperiamo praticamente qualcosa che era un divario di 7-8 navi contro 4 e poi dritti sulla porta aerei finale che non vediamo l'ora di spezzare letteralmente a metà facciamo qualche manovra per disimpegnare i siluri salva verso la zona di prura che possiamo tranquillamente cittadellare anche noi ovviamente finta di andare a destra poi andiamo a sinistra la porta aerei comunque effettua un drop preventivo quindi un silura lo prendiamo per forza lo possiamo comunque tranquillamente imbarcare i siluri inglesi non sono poi una grande minaccia aspettiamo ancora utilizzare il nostro consumabile finale a destra questo perché volevo effettivamente colpire a piena forza sulla quando avevo il tiro migliore sulla cittadella laterale guardate che danni può fare tra poco la nave attiviamo adesso il main boost reload e ci prepariamo a piegare in due la porta aerei cosa che però non accadrà perché la partita finirà poco prima guardate un po' il danno adesso quasi 26.000 ma non basteranno perché la partita finirà adesso vittoria comunque ai punti peccato per la kill finale guardate un po' quasi 160.000 danni quasi 100 colpi diversi colpi in cittadella diversi aerei abbattuti un lavoro costante di tanking un danno tankato veramente impressionante occhio al punteggio di squadra perché è questo veramente importante 3.000 e 05 di punteggio base tantissimo danno fatto contro piccole navi sommergibili danno importante sulla porta aerei è veramente tankato tantissimo su North Carolina a Maggi ma ancora prima sulla Roma e sulla Bismarck e le Sherbur comandanti è veramente un super dunker in formato miniatura capace anche di giocare diciamo contro le corrette cercando di vendere cara alla pelle è veramente una grande guardate la differenza tra noi e l'Hoganavoj che comunque ha fatto una buona partita e tutto il resto della squadra abbiamo fatto il doppio dei punti il doppio dei punti del quinto in classifica che era la porta aerei veramente partitone dello Sherbur per quanto riguarda i moduli e le skill consigliate sono le seguenti era identico set up che avete visto sul tolone per quanto riguarda le skill classico set up battle cruiser ricarica migliorata quando avvistati punizionamento AP migliorato adrenaline rush parentaggio migliorato switch veloce dei proiettili incendiari AP un sovrintendente in più e poi il consummate e il prioritario come sempre che come sapete su alcuni incrociatori invece quelli pesanti secondo me è un'ottima cosa per quanto riguarda i moduli boost migliorato moduli rinforzati precisione migliorata il consummate e poi il modulo quarto modulo come sempre la potenza migliorata del motore per avere sempre quell'accelerazione quando cercate di scappare anche da qualche siduro o dovete evitare qualche colpo delle battleship in avvicinamento per quanto riguarda la matura generale dello Sherbur è la seguente c'è questo assurdo rivestimento da 25 mm che poi diventa da 27 nella zona centrale i colpi incendiari possono farvi molto male la pompa da 25 è rinforzata con il timone da 40 le sovrasature sono le classiche da 16 per quanto riguarda i torioni principali da attacco quelli nella zona di prua sono identici a quelli del tolone quindi 150-305 di fasciame disposti nella medesima misura sono proprio identici anche a livello di calibro e anche a livello di danno cambia semplicemente la ballistica nel caso del tolone avete un handicap anche per una questione di bilanciamento mentre con lo Sherbur l'ottima ballistica ad 870 ms vi permetterà di utilizzarli al meglio e saper colpire anche in maniera più facile i bersagli per quanto riguarda la matura in cittadella dello Sherbur è la seguente come potete vedere c'è questa turtle bed 160 che lo separa dal ponte principale fasciame l'atelare da 170 che non potete vedere solo adesso perché prima era coperto da quel 27 superiore la cittadella è quella 160 in rettangolo disposto a colonna cioè in rettangolo disposto in verticale mentre sopra c'è questa turtle bed che lo protegge vi posso assicurare che la turtle bed lavora sì ma non contro le querazzate ovviamente se trovate la Maggie la Key la Vladivostok la Lenin la North Carolina l'Alabama ma sono tutte quelle navi mostruose lì che hanno sopra cani superiore ai 400 e vi sparano anche lateralmente non potete assolutamente pensare di tankare come una battleship tedesca però comunque è un rivestimento un'armatura laterale che vi assicura ottime performance contro altri incrocitori tutti gli effetti il battlecruiser è nato per uccidere altri incrocitori e questi non sono da meno sono esattamente concepiti per la stessa identica cosa per quanto riguarda il bilancio finale dello Sherbur è il seguente i punti di forza l'armatura possente quantitivo HP superiore alla media i cannoni da 305 il buon raggio di tiro le secondarie interessanti anche solo se bisogna dire in alcune circostanze il timone notevole l'avete soprattutto visto 670 metri per una nave così è veramente incredibile divertente da giocare perché comunque siete sempre lì a media corta distanza diciamo che c'è molta più azione rispetto a giocare nelle retrovie mix di consumabili utili e poi il main battery reload booster quel consumabile lì che aumenta la ricarica anzi diminisce la ricarica per circa 15 secondi del 50% è un bonus di danno importante ma soprattutto è veramente una marcia in più in alcune situazioni i punti deboli i lunghi tempi di ricarica 28 secondi sparate addirittura in maniera più lenta rispetto ad alcune battleship che hanno i 380 di questo tier come la Bismarck la Tirpitz le battleship inglesi quindi è comunque un handicap niente radar è comunque un problema considerando che tanti incrociatori la montano lui non ce l'ha e quindi questo vi rende più facili bersaglio dei destroyer nemici anti-era mediocre l'avete visto come la porta aere inglese riusciva comunque ad attaccarci senza problemi è un'anti-era veramente modesta figuratevi cosa possono farvi le porte aere tier 10 mimetismo scarso perché comunque è uno dei peggiori in questo il rivestimento esterno da 25-27 rende molto vi propenso a subire danni dei proietti incendiari sono la vostra minaccia principale attenti sempre ai cruiser light che vi prendono di mira perché potrebbero farvi molto male e infine il chiede ottime skill nel posizionamento quello che avete visto in questa partita è proprio una conoscenza perfetta della mappa e della modalità di epicentro posso capire che non tutti siano in grado magari di giocare a livello tecnico in questo modo a leggere effettivamente i movimenti degli avversari ma effettivamente è il modo migliore per poter rendere al massimo con un battlecruiser che gioca a medie distanze come lo Sherbur quindi cercate di migliorare le vostre capacità di posizionamento se vogliete poi riuscire a performare con queste nuove pesantissime navi francesi comandanti il video è lungo ma era veramente valeva la pena mostrarvelo tutto anche per curare i dettagli diciamo di quello che vi ho fatto vedere nel gameplay io spero di vederli durante questa settimana su Twitch lunedì e venerdì dopo le 8 persone come sempre sostengono i nostri canali e mandano avanti il tutto la baracca per il resto io e veramente Mr. Grey vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo video per continuare questo percorso all'interno del ramo battleship francese comandanti come sempre buona caccia